Ok, let's go! E quindi vi faccio vedere il mio vestito Tra l'altro è strano ma vero ma ho fatto l'intro in un minuto solo E solitamente erano due, tre, quattro Con quell'altro e te questo Allora questo è sacchettino perché io non ne ho, non ne ho E quindi ho deciso di farne uno io Con scritto con Halloween e la zinca insomma Poi vabbè ci saranno le calze a maglia E un vestito nero con una cintura E questa giacchetta di pelle Quindi siamo a calze a maglia messe Ci siamo capiti Io per un lato adoro le calze a maglia perché comunque sono comode Ma le odio per il semplice fatto che si rovi qua Le cuciture dei piedi Stanno strafassili ma anche in generale nei calzetti Cioè io le odio, le odio, le odio Tengo a precisare che questo viduo No Viduo Potrebbe durare Sia un'infinità di tempo Oppure due minuti Perché non so se riuscivo a portarmi Portarmi tutta l'intera serata Se lo metto non è tutta l'intera serata E sicuramente non è ora Io forse dopo riesco a fare il clip E ne vedo parti di più il clip Non si è mai solito Quindi Adesso Cintura nera Ok quindi vabbè Giacchetta Però outfit finale Mentre adesso Andiamo a truccarci E a farci i capelli Sinceramente non so come farmi i capelli Pensato riguardante i capelli Mi farò una treccia Dietro Vediamo come viene Cercherò di farla con molta tranquillità E poi vediamo già la versola Ok allora Prendiamo i capelli E versiamo Bene 10 Sì Tra l'altro Mia sorella mi scopri Io voglio Se non è un gett Per se non lo voglio Perché È Spray Adesso guarderò qua lo spezzo Qui c'è lo specchio Mi trucco Cioè mi metto un po' di rossetto Qui non c'è un minimo di luce Un minimo Quindi non so che cavolo farò Quindi ne metto Un po' di più qua E lo faccio scendere Esattamente così Non so che fine farà Il mio bel dito Ma Questo È il risultato Allora Adesso Buona Così mi piace Questo è l'outfit finale E niente Per questo video È tutto Ciao Ciao